Vincere il silenzio cosa significa? Vincere il silenzio significa fare qualche cosa innanzitutto per fermare questa ondata di violenza che c'è nel confronto dei minori e non soltanto dei minori, superando l'indifferenza, soprattutto non considerando comportamenti che normali non sono. Delle cose si possono fare, si possono fare anche subito e in questo senso vanno le mie proposte. Una prima proposta è quella ad esempio di estendere l'obbligo di presentare il casellario giudiziale per verificare che non ci siano precedenti per reati a sfondo sessuale in capo a tutti i soggetti che lavorano a contatto con l'infanzia. Attualmente questo obbligo c'è quando c'è un contratto di lavoro, ma pensiamo a tutto il volontariato del mondo degli oratori, delle palestre, tutti i centri di aggregazione. Una seconda tematica che ha messo molto a cuore è quella della violenza tra le coppie di adolescenti. È importante che l'adolescente si renda conto quando è a rischio. Il controllo del cellulare, il controllo di come ti vesti, il controllo delle amicizie che frequenti sono forme di violenza gravissime, forme di violenza psicologica che non lasciano lividi, ma che sono veramente molto gravi. E allora in questo caso io credo che ci dovrebbero essere dei centri di violenza specifici per i minorenni, perché l'adolescente ha una sua specificità e quindi è bene che ci siano dei centri specifici e poi dei questionari dei quali il minore possa sapere qual è, se è un soggetto a rischio. Esistono per gli adulti, perché non farli specifici per i minorenni con un linguaggio adatto a loro in modo che l'adolescente si renda conto che certi comportamenti che considera normali, normali non sono, ma sono forme di violenza. E ancora, semplificare le forme di segnalazione. Non soltanto i minorenni, ma anche gli adulti molte volte non sanno cosa, a chi, come segnalare determinate forme di violenza. E poi, per tornare alla sua domanda iniziale di vincere il silenzio, superare l'indifferenza, quello che succede nella casa del nostro vicino non è qualche cosa che non ci riguarda, riguarda anche noi. E quindi le violenze vanno segnalate, va superata anche quella mentalità per cui non soltanto quello che succede nella casa del vicino non ci riguarda, ma certi comportamenti, certe condotte sono normalizzate. Lo schiaffo ben assestato in molti stati della nostra società è considerato una forma educativa valida. Non lo è, la violenza non è mai una forma educativa.